Altro volto nuovo della Stemmar 90, Daniel Berenson. Intanto partiamo dall'inizio come con gli altri volti nuovi di questa nuova squadra, perché la decisione di venire a giocare qua a Civitavecchia con la Stemmar 90? Ho deciso di venire a Civitavecchia con la Stemmar 90 perché mi è sembrata una buona situazione, dove poter giocare e portare avanti un buon programma per lo sviluppo dei giovani. Quali sono le tue prime impressioni sui compagni di squadra, sullo stesso allenatore? Ho impressioni positive sul gruppo. Stiamo lavorando duramente e stiamo correndo molto. Mentre dal punto di vista tecnico abbiamo fatto poco, introducendo il contropiede. Sono fiducioso che le cose andranno bene. L'obiettivo della squadra deve essere quello di migliorare e di vincere tutte le volte che sarà possibile vincere. A livello personale il mio obiettivo è invece quello di venire in palestra e dare ogni giorno il meglio di me stesso. In partita darò il 100% ogni volta che scenderò sul parquet. Una breve descrizione di quali sono le tue caratteristiche tecniche. La mia caratteristica migliore è quella di mettere in ritmo i compagni, di fare molti assist. Ho fatto parte della nazionale Under 17 della Danimarca e l'anno scorso ho avuto la fortuna di fare l'high school in Ohio, con l'Hudson. E questo mi ha aiutato a confrontarmi con atleti provenienti anche fuori dalla Danimarca. Spiego con alcuni altri ragazzi di danese.